Wingslap adesso è qui ed è subito allegria Guarda e capirai che tutto intorno è magia Dentro il mondo Wings, entrare ora potrai Segui il ritmo e poi tu fatti nella fantasia Batte, sforza il tuo cuore mentre sale l'energia Sei già in alto e poi limite non c'è Io ti ringrazio, pensavo che ti riferissi al fatto che abbiamo fatto sfilare per la prima volta Al mondo su Red Carpet un cavallo bianco e una principessa Questo è Rembo, noi cerchiamo di fare le cose prima degli altri Con il film in 3D ci siamo riusciti ed è veramente un grande spettacolo Perché le Wings con le loro magie si prestano molto al cinema Sono belle e sono molto molto toste come donne Sono delle supereroine Loro hanno il carattere ben definito Sono delle ragazze di oggi che sanno quello che vogliono E sanno per che cosa combattere Ognuna di loro ha un carattere diverso E ognuna delle ragazze riesce a identificarsi facilmente Noi ci abbiamo impiegato tre anni e abbiamo scelto la stereoscopia Anche se più costoso che un film tradizionale Perché credevamo che la magia delle Wings si potesse esprimere al meglio E ora che il risultato è quello che abbiamo siamo molto contenti E questo film andrà anche molto all'estero Quindi speriamo ancora una volta di portare in alto la bandiera dell'Italia Devo dire che questo è un prodotto di altissima tecnologia Di grande qualità Che regge benissimo il confronto con un 3D come Avatar Non per dire che è uguale all'Avatar Ma che comunque dal punto di vista della tecnologia non ha niente diverso Anzi ha anche forse qualcosa di meglio È un film che piacerà moltissimo ai bambini e anche ai loro genitori Oggi abbiamo avuto la prima prova E abbiamo avuto una prova che ci dà una grande soddisfazione Perché siamo convinti che migliaia Posso dire un milione, due milioni Di bambini italiani, tre milioni mi auguro Andranno a vedere questo film con i loro genitori E non è un film solo per le bambine È un film anche per i bambini Andranno a vedere con i disability